Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monospor 07 Siamo qui ragazzi, post qualifiche Allora, veramente una bella qualifica quella che ho visto Cioè insomma, alla fine Q3 ha interrotto la bandiera rossa Quindi alcuni non hanno fatto neanche bene il tempo Q... no, Q1, che c'era la bandiera rossa E poi nel Q3 è successo quello che è successo Con l'incidente di Zunota che ha sencito alla fine Seconda goal consecutiva per Charles Leclerc È inutile che gli altri piangono Perché ragazzi, stavolta Leclerc aveva tre decimi di vantaggio Quindi insomma, non credo che nessuno gli avrebbe tolto la pole Anche perché Leclerc ha fatto il tempo senza nessuno che gli ha dato la scia Gli era data solo Hamilton nell'ultimo settore Ma Leclerc di regola era partito per fare quel giro con Sainz dietro Quindi insomma, le strategie erano ben definite Alla fine Leclerc ha fatto una super super proposition Una bella Formula 1 dove comunque tutti i piloti erano Insomma, nel giro di un secondo I primi dieci ora magari se accendo il computer riesco a dirvelo Quindi insomma, veramente un gran lavoro da Leclerc Che a Leclerc basta un'auto tre decimi più lenta di un'altra Che Leclerc te la mette davanti A quest'auto qui tre decimi più forte Penso che mi avete capito Leclerc è veramente un pilota di una qualità cristallina in qualifica Anche se finora delle sue precedenti 8 pole position Solamente a Spai e a Monza ha vinto la gara Che tra l'altro sono anche le uniche sue due vittorie In tutte le altre occasioni Leclerc dalla pole non ha vinto In Bahrain avrebbe vinto ma comunque gli è capitato quel problema alla fine Vi parlo del 2019 ovviamente A Singapore poi alla fine ha vinto Sebastian Vettel In Messico si è fatto separare con il gioco delle strategie Quindi insomma è sempre molto sfortunato in qualche modo Charles Leclerc Allora se adesso invece dicevo Vado un po' a vedere i distacchi Veramente tutti sono lì La Ferrari che mi è piaciuta in generale Perché un conto è dire ora i distacchi si sono diminuiti Ma la Ferrari ha proprio fatto un qualcosa di straordinario Perché comunque la Ferrari è davanti a McLaren Alpin, Alfa Tauri Aston Martin Alfa Romeo A mani basse Cioè ci siamo veramente davanti sia con Leclerc Che con Sainz ragazzi Quindi veramente un'ottima Ferrari McLaren che appunto si appresta a salutare Spero di non gufarmela Ma McLaren che si appresta ormai a salutare il terzo posto nella classifica costruttori Perché Ricciardo fa di male in peggio Norris probabilmente avrà una penalità Per non aver rispettato la riga in regime di bandiera rossa Quindi insomma Non nulla di che ecco Nulla di che Perché Norris è inutile Che sembra così tanto migliore di Ricciardo Perché in questo momento Parlo di questa qualifica Perché in questa qualifica Norris A parte che molti non capiscono Norris granga la monaco Si ha fatto comunque una bella gara Ma non c'era molto da fare Alla fine ha dovuto semplicemente difendere la posizione Lui era quinto Si è ritrovato terzo Per i ritiri di Bottas e Leclerc Non per altro Perché se no sarebbe stato quinto Sainz invece è andato più volte vicino a Verstappen Addirittura a due secondi Quindi insomma Di Sainz si può dire un'altra cosa Anche dalla fine i punti in classifica sono quelli Sainz poteva pure far cagare Che secondo ci arrivava Hamilton praticamente ha quasi tre decimi Da Leclerc Ma comunque Ha avuto la scia Hamilton nel suo giro Quindi non ha da dire Bottas che alla fine Gira e la rigiri È sempre lo spigato della squadra Che partirà a decimo Quindi Poverino Valtri Bottas Che ha fatto un tempo quattro decimi Peggio di quello di Vettel Che era uscito in Q2 E Male Verstappen Ma non perché ha fatto terzo Cioè io non sono d'accordo Quando si dice che Verstappen Quando è il numero uno Quando è il favorito Lui stecca No perché alla fine Verstappen Se gli facevi fare un giro normale Alla fine Verstappen Poteva pure darsi Che ti faceva un secondo posto Ti superava Hamilton Non so Leclerc Ma magari ti superava anche Leclerc Non lo so Verstappen te lo estrai Sempre fuori Alla fine il comino dal cilindro Ma Come ha detto Van Zing Appunto Non è stato bello Quello che va a dire Nell'intervista Se qualificano Fatto schifo Che fatto schifo Cosa Ma lo sai come hai vinto a Monaco Lo sai come hai vinto a Monaco Almeno Hai avuto la fortuna Che Hamilton partiva dietro Nell'unico Tracciato Dove era praticamente impossibile Superare Si è stato fortunato Che la Mercedes Ha anche sbagliato il gioco Delle strategie Leclerc non partiva Quindi hai vinto la gara Senza rivali Perché botta Hamilton Si è tirati fuori da soli Che vuoi Che vuoi di più La gara è andata così Che cazzo vuoi Cioè voglio dire Inutile che valli a dire Stai qualifici Che mi fanno schifo Eh ma alla fine Oggi a te Domani a me Cioè alla fine È la formula 1 Inutile che sembra Faccia un po' Il bambino viziato Un po' in pista È spettacolare Verstappen Mi piace tantissimo E tutto ma In queste interviste Cioè io non lo capisco Alla fine lui ha avuto La scia di Perez Quindi al primo tentativo Hamilton è stato Più forte di lui A prescindere Non ha fatto il secondo Ok ma intanto Fammi bene il primo tentativo Perché sembra Verstappen che per lui La qualifica è sempre Il secondo tentativo E questa cosa Non va bene Sainz Comunque si conferma Un ottimo pilota Mi rimango un po' Sciocca Anche se per due millesimi No per quanto Per undici millesimi È dietro Gasly Anzi Per tredici millesimi Cioè dovrebbe dire Che è dietro Verstappen Cioè Sainz Per tredici millesimi È meglio Verstappen Se faceva il tempo Tipo Che ne so Quattordici Quindi millesimi Più veloce Lui era terzo Sapete quanto sono Quattordici millesimi Di secondo Non in questo video Di otto minuti Quindi comunque Senza dubbio Anche una buona Prestazione di Carlos Sainz Mercedes Che in questo punto Non sta andando bene Ora non lo so Non penso che la Ferrari Se continua così Può ambire al mondiale Perché per ambire al mondiale Devi fallire il meno possibile E a Monaco Abbiamo fallito Una ghiottissima occasione Di fare un doppio podio E oggi Poteva essere anche Tutta una prima fila Non si sa Però ragazzi I mondiali si vincono così E praticamente La Ferrari Nelle prime tre gare Nelle prime quattro gare Anzi Non c'è stata Lì a lottare Con Hamilton e Versa Magari Possiamo arrivare terzi e quarti Perché Se andiamo a vedere Chi è terzo Nel mondiale Che è Norris Sia Leclerc Che Sainz Più di 15 punti Da lontano Non ci sono Però Non credo Mercedes e Red Bull Lottare con loro Non lo so Non penso proprio Perché molti a dire Adesso la Ferrari Lottare per il mondiale Non lo so Io ripeto sempre Che bisogna vedere Il passo gara In qualifica Uno Leclerc Può anche essere Più veloci Di Red Bull E Mercedes Ma nel passo gara Dove non è neanche Proprio tutto Il punto forte Di Leclerc Forse è più di Sainz Questo Ma nel passo gara È tutta un'altra cosa E per me Hamilton e Versailles Se ne avranno loro due Leclerc reggerà Secondo me Solamente il primo Istente di gara Perché più che passo gara Leclerc E la Ferrari In generale Soffrono più La gestione delle gomme Rispetto a Red Bull E Mercedes Perché rispetto ad Alpine Alfa Romeo A Ston Martin Eccetera eccetera Siamo di gran lungo superiore E Perez Alla fine della fiera Sempre lì Alla fine Diciamoci alla verità Più o meno Non è tanto lontano Dei risultati di Gasly Albon Tanto vali che ti tenevi Albono Gasly Quindi Non capisco Anche se Perez Si conferma un gran pilota Però insomma Alla fine settimo Fammi capire Non è che Termina dietro Ferrari McLaren Alfa Tauri Quindi insomma Non è che Si becca da Versailles Anche se Perez Ha anche dato la scia Lui Però insomma Se andiamo a vedere Anche Sainz Magari lui è quinto Se andiamo a vedere Norris è sesto Quindi boh Non lo so Alfa Tauri Che comunque si conferma Veramente devastato In qualifica Vedremo in gara Che combineranno Però se faranno Si metteranno Entrambe le auto In top 10 Possono competere Per posizioni alte Nella classifica mondiale Magari per il quinto posto In classifica costruttori Vettel Comunque si conferma Che sta un po' tornando Alla fine Comunque ha fatto Un tempo più veloce Lui Però ma non credo Secondo me Leclerc Il podio domani Lo va a prendere Fa un bel terzo posto E per la vittoria Se la vedranno Hamilton e Verstappen Con secondo me Il britannico Che a sorpresa di tutti Prevalerà Su Verstappen Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Fatemi sapere per voi Come finisce domani Vi rispondo a tutti Seguitemi su Instagram Rispondo a tutti Anche in direct E se mi iscrivete Vi metto like Tutte le foto Ve lo giuro Tanto anche perché Se dico una bugia Magari Devo spargere la voce Secondo della mia vita Per mettervi like Non è che vi sto dicendo Vi regalo un viaggio a Roma E allora ragazzi Il video termina qui Spero che vi sia piaciuto E sempre Forza Ferrari Vamo Charles